Il vaccino AstraZeneca, sospeso precauzionalmente in via temporanea in tutta Italia dall'AIFA, si attende a giorni il parere dell'EMA. Coronavirus, la provincia torna a superare i 300 casi, mentre in regione continua a salire la pressione negli ospedali, 8 le vittime nel Riminese. Da oggi l'Emilia Romagna intera in zona rossa, dagli spostamenti all'attività sportiva, ecco cosa cambia. Tragedia sfiorata in un residence di Marebello, dove il marito ha minacciato la moglie con una mannaia prima di cercare di accoltellarla. Buonasera e bentrovati all'appuntamento serale di Icaro Tg. La campagna vaccinale contro il coronavirus si complica in Italia e non solo dopo il caso AstraZeneca. Oggi è partita una nuova inchiesta a Biella per un decesso avvenuto poche ore dopo una somministrazione con il sequestro di un nuovo lotto. Nello stesso momento diversi paesi europei decidevano di sospendere le vaccinazioni AstraZeneca in via precauzionale e anche l'Italia nel pomeriggio si è allineata il servizio. Dopo quello della settimana scorsa è arrivata in mattinata la notizia di un altro lotto di vaccini AstraZeneca sotto inchiesta. Il sequestro delle dosi non ancora utilizzate è scattato da parte dei NAS dall'inchiesta della procura di Biella sul decesso del 68enne Sandro Tognatti, professore di musica morto accossato poche ore dopo la somministrazione del vaccino. Dosi che erano state distribuite anche in Veneto ed Emilia Romagna. Nel primo pomeriggio anche i medici di base riminesi hanno ricevuto l'indicazione di ritirare e restituire le dosi ancora non utilizzate per il personale scolastico, il tutto in attesa dell'esito dell'autopsia e delle conseguenti decisioni. Nel frattempo diversi stati europei come Olanda, Francia e Germania sospendevano in via precauzionale la somministrazione di tutti i vaccini AstraZeneca e a metà pomeriggio anche l'annuncio dell'Associazione Italiana del Farmaco che decide di estendere in via del tutto precauzionale temporanea, si legge nella nota il divieto di utilizzo del vaccino AstraZeneca in attesa dei nuovi pronunciamenti dell'EMA. Lo stesso ente europeo del farmaco ha fatto sapere che è in corso l'esame degli avvenimenti trombotici riscontrati in questi giorni per capire come usare al meglio il vaccino AstraZeneca, ma i dati a oggi raccolti non evidenziano rischi. Tutto questo nel primo giorno di prenotazioni in Emilia Romagna dei vaccini per la fascia 75-79 anni, alle 15 di oggi in regione era stata fissata la prima dose per 72.000 persone, di cui 18.000 nel territorio dell'Auslo Romagna e a Rimini in diverse farmacie si sono registrate code in attesa dell'apertura per prenotare e ora, oltre all'attesa di nuove rassicurazioni, c'è anche l'incognita dei tempi da rivedere. Intanto anche oggi il numero dei contagi in Emilia Romagna sono allarmanti. A Rimini i nuovi casi tornano sopra quota 300 e ci sono purtroppo anche 8 decessi, ma preoccupa anche il fronte ospedale dove i ricoveri aumentano in modo significativo. Sono 338 i nuovi casi di coronavirus in provincia di Rimini, 39 in più di ieri, 171 i sintomatici, solo 24 le guarigioni, 8 i decessi, 5 uomini, 3 di Rimini di 66, 74 e 80 anni, uno di Misano di 85, uno di Mondaino di 63 e 3 donne, 2 di Rimini di 86 e 91 anni, una di Coriano di 83. 2.822 i nuovi casi in regione, su un totale di 15.767 tamponi, di cui 3.800 rapidi. La percentuale dei positivi sui tamponi sale al 17,9%, in linea con quella dello scorso lunedì. E come ogni lunedì, la regione specifica che nel fine settimana si testano soprattutto sintomatici e persone per le quali c'è alta probabilità di positività. 1.023 le guarigioni, i casi attivi salgono a 68.293 rispetto a ieri, 1.738 in più, 30.000 in più rispetto a mese fa, il 94,4% in isolamento domiciliare. Alto il numero di decessi comunicati oggi, 61 in 5 hanno tra i 52 e i 59 anni e il peso per gli ospedali aumenta. I pazienti ricoverati in terapia intensiva in regione sono 373, 9 in più rispetto a ieri, Rimini è stabile a 23, 3.464 quelli ricoverati negli altri reparti Covid, 145 in più in un solo giorno. Tutta l'Emilia Romagna, insieme ad altre 10 regioni, da oggi è in zona rossa. Il governo ha pubblicato le FAQ che chiariscono meglio alcuni punti controversi. Vediamo insieme quali. i continui cambi di colore e il nuovo decreto Draghi possono aver creato dubbi su cosa è possibile fare e cosa no. Ecco allora che sul sito di Palazzo Chigi sono consultabili le risposte alle domande più frequenti, a partire dagli spostamenti che, è bene ricordare, sono consentiti solo per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità, anche verso un'altra regione o provincia autonoma. Inoltre è sempre possibile il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione e a tal proposito il governo ha chiarito che per abitazione deve intendersi il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità o stabilità, quindi per periodi continuativi anche se limitati durante l'anno o con abituale periodicità e frequenza, per esempio in alcuni giorni della settimana per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze. In zona rossa sono vietate le visite a parenti o amici, con un'unica eccezione però che riguarda i giorni 3, 4 e 5 aprile, dove invece sarà consentito ad un massimo di due persone e una sola volta al giorno dalle ore 5 alle 22. Ha messo invece raggiungere le seconde case, anche se situate in un'altra regione, purché il titolo sussista da una data anteriore al 14 gennaio 2021 e la casa in questione non si è abitata da persone estrane al nucleo familiare. Per chi si chiede se sia possibile fare la spesa fuori dal proprio comune, la risposta è sì, purché ci si rechi in un comune vicino e si giustifichi lo spostamento con una convenienza economica. Esaustive anche le spiegazioni sull'attività motoria e sportiva, passeggiate consentite da soli e vicino a casa, sport di contatto vietati. Nel caso della corso o della bici, ha messo entrare in un altro comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all'attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il comune di partenza. Infine, si ricordi che ogni spostamento deve essere giustificato con l'autodichiarazione e che in caso di sanzione ritenuta ingiusta è sempre possibile inviare scritti e documenti difensivi a prefetto, autorità competente in materia. Dall'Australia ora una terribile notizia. Dimitri Didenko, 31enne di origine russa e residente a Riccione, è morto nel campionato australiano di paracadutismo di Urien Bay a nord di Perth. Durante una delle prove della competizione di Swing Suite con la tutalare, il paracadute di Didenko non si è aperto. Inutili purtroppo i soccorsi. Dimitri è un paracadutista esperto, con oltre 6.000 lanci alle spalle. La Federazione Australiana di Paracadutismo indaga sulle cause dell'incidente. Il 31enne, iscritto all'Associazione Turbolenza di Rimini, nel luglio 2013 fu tra i promotori di un'iniziativa per la Fondazione Marco Simoncelli al centro di paracadutismo Skydive di Fano. Nell'occasione si lanciarono col paracadute anche Kate Fretti e Mattia Pasini. Passiamo ora alla cronaca. Una violenza inaudita che neppure l'arrivo della polizia è riuscita a placare. Un gravissimo episodio, quello avvenuto sabato sera in un residence di Marebello, dove un uomo ha minacciato di morte la moglie e ha tentato di accoltellarla all'addome davanti ai figli. Solo il provvidenziale intervento degli agenti ha evitato il peggio, il servizio. Minacciata di essere bruciata viva con una mannaia appoggiata al collo. Sono le 21.15 di sabato sera. Una donna chiama il 112. Dopo l'ennesima lite con il marito teme per la sua vita e per quella dei figli di 4 e 7 anni. Vivono in un residence in via Siracusa, Marebello, dove subito dopo arrivano due volanti. Quando gli agenti entrano nell'appartamento, l'uomo, un 36enne albanese incensurato ma irregolare in Italia, cerca di sminuire l'accaduto. Zittisce la donna, una connazionale trentenne, ma lei non è più disposta a sottomettersi alle violenze del marito. Prende coraggio e racconta di essere appena stata minacciata di morte. L'uomo l'aveva trattenuta con forza, appoggiandole sul collo una grossa mannaia da macellaio trovata sul pianale della cucina. Violenze simili, spiega i poliziotti, vanno avanti da mesi. Solo pochi giorni prima il marito aveva tentato di strangolarla davanti ai figli. Vinta dalla paura, però, non aveva mai denunciato il compagno. Lui spesso passava la notte fuori casa con altre donne e faceva uso di sostanze stupefacenti. A rientro il mattino non esitava ad usare violenza anche nei confronti dei figli, si facevano rumore e non lo facevano dormire. Gli agenti, ascoltate le accuse, avvalorate anche dalle testimonianze di alcuni vicini, hanno invitato la trentenne a lasciare l'appartamento per trascorrere qualche giorno a casa di un parente insieme ai figli. A quel punto la furia dell'uomo è nuovamente esplosa. Mentre la donna preparava i suoi effetti personali, le ha detto in albanese, ti brucio viva, e quando si è avvicinata alla porta con i bambini per uscire, ha estratto di tasca un coltellino a scatto tentando di colpirla allo stomaco. Solo il repentino intervento dei poliziotti è riuscita a scongiurare il peggio. Il 36enne a quel punto è stato bloccato, ma ha continuato a sgomitare, a prendere a calci poliziotti, tentando di utilizzare il coltello anche nei loro confronti, senza fortunatamente riuscirci. Le accuse che hanno portato all'arresto sono maltrattamenti in famiglia e resistenza pubblico ufficiale. Da ieri mattina l'uomo si trova nella casa circondariale di Rimini. Addosso gli sono stati trovati anche alcuni grammi di droga. L'edizione di CIGEP Expin Digitale ha aperto questa mattina con 1.048 utenti connessi. La manifestazione internazionale della gelateria, pasticcerie e panificazione artigianale del caffè d'Italian Exhibition Group per la prima volta su piattaforma online raggiungibile dal sito www.cigep.it. L'evento per il mercato del food service dolce si articola tra gli stand digitali di 250 espositori e gli oltre 220 organizzati da IEG e dalle aziende nei due format Vision Plaza e CIGEP Lab. Chiusura mercoledì con l'intenzione di riproporre l'edizione in presenza nel gennaio 2022 sempre a Rimini. Basket in carrozzina. Troppo forte la Menarini Volpi Rosse Firenze per una NTS Riviera Basket Rimini che non giocava una partita ufficiale da mesi. Alla palestra Karim nella prima gara interna trasmessa da Icaro TV è finita 35 a 78 con i padroni di casa che sono riusciti a sbloccarsi solo nel terzo quarto. Ma per l'ala di Riviera Basket Marco Venzon è stata comunque importante ritrovare il parquet. Ascoltiamolo. È stato molto bello, tanto tempo, manca al pubblico, questo è stato un peccato perché il pubblico qua fa l'uomo in più, è come allo Juventus Stadium. Però è stata molto bella, una partita molto bella, agonistica, è stata una partita corretta, abbiamo tanto da imparare da loro e questo è molto bello. Vedere come giocano a loro velocità, abbiamo perso, ok, però è stato bello vedere loro e poter imparare da loro e capire dove magari possiamo, verso dove possiamo andare. Loro hanno già giocato una partita, sai va bene, sicuramente hanno un altro passo, assolutamente, però il fatto che avessero giocato un'altra partita, noi nel nostro primo quarto eravamo un attimino disorientati, no? Abbiamo bisogno di rifare amicizia col parquet e con la palla. È tutto, vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it dove potrete trovare tutte le notizie del territorio e la nostra piattaforma IcaroPlay.it dove invece potrete rivedere tutti i programmi del gruppo Icaro, compreso il Tg. Grazie per essere stati con noi e a tutti voi una buona serata.